Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti sul canale e oggi vi spiegherò la campagna per i nuovi iscritti che sarebbero tre passi, i primi tre passi. Cosa vuol dire i primi tre passi? Quando voi vi iscrivete nel attuale catalogo o nel catalogo che vi iscrivete, ogni ordine del catalogo che dura 21 giorni, l'azienda vi propone dei prodotti a un prezzo vantaggiosissimo, molto vantaggioso e fino ad arrivare a un pezzo regalo veramente ottimo, in nostro caso vediamo il porta cosmetici, molto carino, molto simpatico. Vi spiego come funziona, ad esempio se vi siete iscritti nel catalogo numero 5 che in questo momento che sta andando, quello del nuovo profumo della Giordani ovviamente, fate il primo ordine, confermate la vostra iscrizione con il vostro primo ordine che arriva a 45 euro, ovviamente innanzitutto avrete il 23% di sconto immediato e non pagherete 43 euro, ma paghereste solamente 32 euro. Nel catalogo successivo l'azienda vi metterà nel vostro ordine il primo passo che avete fatto, quindi vi metterà mascare e matita che vi costerà, sapete quanto, solamente 1 euro e 50. Credo che sia nulla, nulla. Sono più che altro per le tasse. Se invece nel catalogo successivo, che sarebbe il catalogo 6, il prossimo catalogo, il vostro ordine, arriva a 300, 300 lei, che in euro sarebbero 75 euro, meno, meno, 30%, perché avrete 30%, adesso non mi ricordo quanto è esattamente, con quell'ordine intanto vi arriva il mascara e la matita, ma siete anche assolutamente, avete fatto il passo per avere queste capsule di 6 oli della Novage, che sapete quanto costano in realtà, costano tantissimo, costano sui 20 euro queste capsule, ma l'azienda vi darà nel vostro terzo ordine solamente a 2 euro, anche meno, 1 euro e 90, una cosa del genere. Se invece il vostro terzo ordine, quando farete il vostro terzo ordine del terzo catalogo, arriva a 400 lei, ovviamente arriva, perché alla fine 400 lei è un ordine normale, cioè se avete clienti, se è anche vostro personale in realtà, cosa sarebbe 400 lei? 400 lei sarebbe un site Novage con qualcosa di qualche profumo in più, in realtà arrivate tranquillamente. Nel quarto ordine avete possibilità di avere questo porta cosmetici a solamente 2 euro, credo che sia una promozione veramente ottima per le nuove iscrizioni, per vantaggiarli. I prodotti potete venderli se vendete, usarli voi personalmente, lo potete fare, infatti i prezzi interi sono scritti anche sotto i prezzi, quelli del Nuovi Consulenti, e questa truce per porta cosmetici in realtà costa parecchio, costa su 50 passa euro, ok? Quindi è un'ottima promozione. Acquistarla così non lo potete acquistare, perché solamente sono i pezzi riservati per iscritti in Oriflame. Inoltre, se siete già stati iscritti in Oriflame e ovviamente volete averla, la potete fare anche come si fa. Si fa così, innanzitutto dovete invitare nel vostro programma, quindi iscrivere due amici, due parenti, due conoscenti, che fanno solamente il primo passo, quindi che facciano questo primo passo, ok? Che sarebbe un ordine di 32 euro, ciascuno devono fare, e voi nel catalogo successivo ovviamente avrete la porta cosmetici anche a 2 euro. Niente di difficile, niente di, non lo so, quando persone pensano che bisogna fare chissà che cosa, cosa avete fatto? Avete consigliato ai vostri amici di utilizzare il prodotto Oriflame. Loro hanno fatto l'acquisto e l'azienda ovviamente vi fa il regalo. Ovviamente questo lo possiamo chiamare un regalo, perché 2 euro, una cosa del genere, è un regalo. Bene, se vi è stato utile il video, mettete like, condividetelo. Se non siete iscritti, iscrivetevi, facciamo iscrizione, mi trovate su Facebook, in pagina Oriflame Milano o gruppo del Facebook, Oriflame Lombardia e Nord Italia. Metto anche la mia email per scrivermi, ovviamente ci scambiamo il numero, Whatsapp e tutto il resto, e faremo un'iscrizione gratuita. Quindi, non perdete l'opportunità di avere tantissime regali con Oriflame. Intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.